E al fin la ghiaia giunse in quel della Sassonia, davanti all'anfiteatro Rastat, il tratto di costa affanese dove il mare ha mangiato metri e metri di arenile, costringendo gli operatori balneari che qui operano ad avere ancora a metà giugno la metà degli ombrelloni piantati e posizionati, costringendoli ad un inizio di stagione che definire problematico è dir poco. La ghiaia è arrivata stamattina e ieri è stato allestito il cantiere. Dalle 6 della mattina fino alle 8 le ruspe fanno quello che possono nel tempo che hanno a disposizione, poi all'arrivo dei bagnanti macchine ferme. Dalla settimana prossima quindi tutto sarà a posto. Per essere arrivati però a questa incresciosa ed inusuale situazione sono stati molteplici i fattori negativi che ci hanno messo lo zampino. È indubbio che fare il ripascimento i primi del mese di maggio avrebbe comportato qualche rischio per le ultime mareggiate e quindi come sempre si sarebbe provveduto nella seconda metà di maggio. Ma non è stato così. Quest'anno qualcosa è andato storto. Nuove richieste alla Regione Marche su analisi dei materiali di riporto, ritardi nelle risposte, vettori che dalla Croazia non hanno portato più materiale cosicché da rimandare la posa delle ultime fadidiche scogliere alla prossima stagione, ma anche domande e richieste di autorizzazioni mandate da Comune di Fano in ritardo. Forse alla luce di queste situazioni di cui tutti erano a conoscenza, Comune, uffici competenti, sindaco, operatori commerciali e rappresentanti di categoria, giocare d'anticipo per non trovarsi in braghe di tela a stagione balneare avviata non sarebbe stato male. È innegabile e doveroso sottolinearlo che ora comune, ufficio tecnico e funzionari tutti, sbloccata la situazione, si stanno dando un grande affare e impegnando a fondo per tappare la falla, anche mettendoci del proprio, come si dice, per non peggiorare la situazione con un contatto giornaliero con i bagnini. Ma questo però non basta a stemperare gli animi. I camion sono arrivati a stagione iniziata, ci sono i turisti, si può vedere dalle immagini che c'è persone anche nella spiaggia libera che si sono dovute spostare. Quindi sì, siamo contenti che è arrivata, però sicuramente non è il momento giusto. Io parlo per me che poi sono stata poco penalizzata, ma per i colleghi che hanno dovuto praticamente transennare le prime file, far spostare i clienti della prima e della seconda, sicuramente è un grossissimo danno. Per quest'anno è andata così, ora la minestra da mangiare è questa. Il prossimo anno con le scogliere in questo ultimo tratto di costa speriamo che si ripeta il buon risultato verificatosi nei tratti dove sono già esistenti, dove i bagnini rispetto al passato si sono ritrovati con metri e metri in più di spiaggia e di certo per questo non si sono lamentati.